Presidente, la conferenza stampa di stamane serve a chiarire un po' un equivoco che voi denunciate da tempo, cioè praticamente molti cittadini lucani nonostante le promesse, nonostante gli spot fatti dalla regione, continuano a pagare il gas, che cosa sta succedendo? Succede che sull'argomento c'è estrema confusione, i cittadini che usufruiscono del gas, i cittadini invece che non vedono questo beneficio e non lo vedranno per i prossimi nove anni, se effettivamente questa legge durerà per nove anni. Ma secondo lei perché si accade questo? Dov'è l'equivoco? Dov'è il problema? Perché c'è confusione da parte della giunta regionale, si promette una cosa e in pratica questa promessa non c'è. Cosa state facendo come ADOC per assistere coloro i quali stanno subendo invece di avere dei vantaggi da questa legge? Noi possiamo solo aiutarli nel capire come funziona questa situazione, nel verificare se ci sono errori nei conteggi e insieme a loro eventualmente studiare delle strategie che naturalmente devono essere supportate dalla giunta regionale di Basilicata e da Apibas e devono rendere effettivamente valido questo sconto, questo bonus totale sulla fattura, ma va fatto con dei provvedimenti legislativi chiari e non farraginosi come quelli che sono in campo oggi. Voi avete invitato stamane il Presidente e l'Assessore Latronico Vergari, non ci sono, pensate di incontrarli nei prossimi giorni? Noi ci auguriamo anche perché ci avviciniamo al periodo elettorale, non si potranno sottrarre da queste incombenze, devono dare risposte non solo a noi che siamo i rappresentanti dei consumatori, ma se non vogliono dare risposte a noi lo diano ai cittadini che naturalmente noi invitiamo a portare in piazza le fatture e a chiedere direttamente quando ci saranno loro in piazza a chiedere i voti e a chiedere lumi su queste questioni.